Grazie a tutti. Molti non abbiamo avuto feriti perché come vedete il crollo è impressionante, sono migliaia di metri quadri che sono saltati. Sinceramente la paura che avevamo noi era che saltassero gli impianti e che quindi si pregiudicasse l'attività dell'ospedale del mare. Grazie a Dio questo non è successo.